Motori accesi a Spa-Francorchamps per il secondo round dell'International GT Open Dopo Estoril in Portogallo siamo arrivati in Belgio con un clima incredibile Cielo limpido, 23 gradi di temperatura Terza posizione ottenuta dalla BMW M6 di Fran Rueda del team Theomartine Motorsport II L'inquadrata Ferrari 488 del team Spirit of Race con Michel Mack E a sorpresa dopo due vittorie conquistate Estoril l'inquadrata Lexus della squadra Emil Frey Racing con lo spagnolo Albert Costa alla guida Un giro nel finale per Liberico che l'ha portato in prima posizione Dunque prima fila dello schieramento con Costa Mack, seconda per Rueda Bell Il rientrante in campionato Andrea Caldarelli quinto con la Ferrari DSF Racing Alla sua fianco la McLaren di Comledogard del Garage 59